Fotogrammi, foto di scena e oggetti iconici tratti dalla filmografia italiana a tema giovani. Un percorso con oltre 150 pannelli che offre uno spaccato storico delle generazioni di ragazzi che hanno vissuto dal secondo depoguerra ad oggi. Belle speranze, il cinema italiano e i giovani, 1948-2018, il titolo della mostra multimediale fino al 15 marzo al mattatoio Roma La Pelanda. Ideata da fondazionente dello spettacolo, mette a fuoco l'identità dei giovani italiani dagli anni 40 ad oggi attraverso film come i vitelloni di Federico Fellini, Poveri ma belle di Dino Risi, Passando per i sapore di Mare Vanziniani, Mio fratello e figlio unico di Daniele Lucchetti, Ecebombo di Nanni Moretti, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana e i più recenti Corpo Celeste di Alice Rohrbacher e La mafia uccide solo d'estate di Piff. Il regista ha partecipato alla presentazione della mostra. Rispetto al periodo della mafia uccide solo d'estate, le speranze sono arrivate, insomma il cambiamento c'è stato. Non bisogna gridarlo troppo perché se no potrebbe essere frainteso che i problemi sono stati risolti. No, però se io faccio un paragone tra la vita di un bambino di 10 anni di oggi e un bambino di 10 anni della mia generazione a Palermo è chiaro che la sua è la vita migliore da quel punto di vista e quindi le belle speranze si sono parzialmente confermate. Una mostra che vuole restituire attraverso l'immaginario cinematografico e non solo l'esperienza politica, sociale, culturale e religiosa dei ragazzi italiani degli ultimi 70 anni per dare ai giovani la possibilità di osservare uno spaccato della gioventù dei propri genitori e dei propri nonni e far rivivere a chi invece ha vissuto quegli anni emozioni e ricordi.